Signori, eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati! Siamo con i corsi! Iberian Capo, Macco, Cotro, Mad Lions, Madrid, conducono 2-1 e siamo all'invitabile match point. Potrebbe però essere una ripresa incredibile. Togliamo questo ciuffo che sembrava quasi qualcosa di sentente al leone. Aspetta che sistema anche il mio, grazie per avermelo ricordato. Full, Macco. Però sì, per l'appunto, siamo arrivati qui all'invitabile match point, potrebbe esserci però la ripresa ancora. I Macco hanno sicuramente le carte in tavola, ce l'hanno dimostrato nel loro secondo game. dobbiamo necessariamente rimuovere. Però sia quel Lussel che quel Ginn. Torniamo a qualcosa di più basic. Ti dirò, primo game, Stomp Mad. Secondo game, gran ripresa, Macco. Voglio parlare più che altro di quello che ci hanno dimostrato i Macco nel terzo game. Perché nel terzo game i Macco, nonostante una situazione di svantaggio tremenda nella quale si stavano trovando, dove purtroppo non sono poi riusciti a uscirne, stavano continuando a punire gli errori degli avversari. I Macco, man mano che la serie va avanti, stanno tenendo alto il livello di attenzione su questa serie. E adesso che sono blueside, mi aspetto tanto da parte loro. Sono dei Macco che ci hanno dimostrato di potercela fare. Sono dei Macco che, quando giocano alle loro condizioni, portano a casa un gran bottino e le condizioni non devono essere Ginn. Ginn, tre partite, tre Ginn perdenti finora all'interno della serie. Abbiamo già parlato prima di quelli che sono gli elementi che contraddistinguono il campione e perché sia così complicato cercare di inserirlo in un contesto del genere. serve andare su qualcosa di più semplice. Parlando di qualcosa di più semplice, i med non hanno problemi a dover decidere che cosa bannare. Sebex, banni costantemente Sebex. Assolutamente, vai a bannare Sebex, vai a rimuovere una fortissima onda d'urto, lato Macco, un fortissimo potenziale mid laner che in realtà però può flexare qualunque cosa. Infatti li vediamo, ban un po' variopinti per quanto riguarda sempre la champion pool di Sebex. Dall'altro lato arriva quel trash, arriva quel Lucian e torna Miss Fortune. Giusto così? Bene, bene così. Bene, ora si forza perché i Mad Lions confermeranno, immagino ancora una volta Lee Sin. Ora però la doppietta è quella. Vuoi togliere da... E invece... Wow! Plot twistone, ragazzi. Sono super plot twist. Arriva il plot twistone e i Mad Madrid decidono di prendere il loro viego, di portare via quindi a Seaboy il jungler su quale ha costruito tutta la serie finora e capisco anche il perché, onestamente. Evidentemente siamo alla seconda draft dei Macco Blueside dove i Macco non danno priorità a Lee Sin e quindi i Mad dicono sai cosa? Vogliono giocare viego, lo sappiamo, togliamoglielo. Lee Sin non è una priorità, non è comunque il campione che vogliono di più giocare dalla loro. Arriva anche Ezreal, quindi comunque corsia inferiore indipendente di per sé che va ad abilitare Torre in roaming sarò sincero, quello potrebbe sorprendermi, però non penso arriverà effettivamente. Ne abbiamo visto, ne abbiamo visto uno al mondiale, quindi abbiamo visto. Più che altro la cosa interessante, ecco, ecco qui. Ecco, qua è già molto meglio, però dicevo, la cosa più che altro molto interessante è hai veramente affossato Seaboy togliedogli il suo viego? Seaboy è nato principalmente con dei pic come Lee Sin, per l'appunto, nel PG Nationals. Abbiamo appreso, abbiamo conosciuto tramite Lee Sin, poi quella parentesi Graves dove era onnipresente in giungla, poi la rego di Diego, chiaramente si parla di season in season, letteralmente. Ok. 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 Quello può essere Sion mid. Allora, intanto contesto, siamo 11.21, è un Sion buffato. Quindi vale, vale, vale. Eccolo. Basta farvi, ne approfitto, basta farvi un giro su YouTube, c'è Tiltarella che è pieno di video di Sion che fa quello che vuole in 11.21. Beh, già detto prima, Sebex può giocare di tutto in mid lane e questo significa che può giocare anche i tank. Potrebbe essere un Sion mid per andare a negare lo snowball dei Mad Madrid, però dall'altro lato arriva Graves, che è un take away, però i Mad Madrid hanno cambiato totalmente registro. Abbiamo un tiratore early to mid game per Flakt, abbiamo danno fisico dalla corsia superiore a questo punto per Niter e Alex che si distacca dal suo Lee Sin sul quale ha costruito l'intera serie finora. È una draft dalla quale i match co devono capire da che lato guardarsi. Perché è una draft totalmente diversa da quelle che abbiamo visto finora da parte dei Mad e sembra quasi addirittura voler carcare più le tempistiche dei match co di quelle che i Mad hanno avuto all'interno della serie finora. È molto interessante. Tanto che ci avviciniamo, ci affacciamo a quella che è la seconda fase della fase ban dei campioni, rimosso a Seraphine, grande rispetto ancora una volta per Sebex, che forse non comprendono veramente che quel Sion possa andare ancora in mid. Lo scopriranno presto. È una possibilità ma non è una certezza. Quindi comunque tu vuoi tenere coperte le fasi di gioco in cui Seraphine è un combo con quei campioni è troppo pericolosa. Avere il Rakan che vada a ammaliare gli avversari nel secondo ammaliamento del BIS nella Suprema di Miss Fortune è quella ABC di League of Legends di cui ti parlavo che volevo vedere già nella draft di prima dei match co. Se i match co riescono a connettere con troppi controlli ad area, la Suprema di Miss Fortune vince da solo le partite. Rimuovono addirittura le Sion. Tu parlavi dello storico le Sion di Seaboy, c'è comunque il rispetto per il kick nelle sue mani. Chiaramente viene rimosso. ma è negare così anche un interessante altro inserimento in quella giungla. Adesso nella giungla ci sono ancora tantissime possibilità. La vera domanda è su chi vorranno focalizzarsi. Mi piace moltissimo comunque la doppia fase di ban per Eren e Nighter al tempo stesso perché comunque quel Graves può andare o meglio più che Nighter Eren stesso perché per appunto abbiamo già quella Zir e quel Rise. Per quanto quel Rise dopo l'energia l'abbiamo potuto vedere prima. È vero, è vero. Ancora tutto è possibile cerchi di tenere a bada. Alla fine stavo pensando alla possibilità di flexare Graves mid in mid lane ha perso tanto ormai come campione dai nerf ai costi in mana. Il problema è che non riesce più dalla mid lane a mantenere priorità costante. Vuole il match up da top sider dove riesce a gestire una corsia più lunga riesce a muoversi meglio. E non solo gioca meglio in quella corsia più lunga grazie agli scatti la montata di energia poi se tutto ti va bene generalmente potresti trovare anche un solido attaccher fisico in quella top lane su cui potete girare. Beh eccolo arriva Lilia per Seaboy si torna sui classici Anche questo è un classico Seaboy? Sì viene confermato quindi il Seon mid che era quello che avevo premonito un attimino nel vederlo in prima rotazione perché siamo abituati a concepire Seon come top laner mentre Seon mid è qualcosa di difficile da affrontare Facendo un attimo la Beastars Beastars versione League of Legends No è Tore effettivamente il suo over su Volibear e Warwick è un over che ce l'avevamo quasi dimenticati perché è un po' che non lo vediamo su territorio e lì sì però effettivamente sono i campioni che va sempre a mettere in over ho dovuto ricollegare l'abitudine al giocatore mentalmente prima di rendermi conto che non si sarebbe trattato purtroppo di un Volibear mid per affrontare Seon mid è la combo che con il fatto che abbia cambiato nome più palcoscenico non del tuo Elysee ha creato un attimo solo quei over che li riconosci perché continui a vederli sostanzialmente sempre in quei grandi matchup in ogni caso lo vediamo per appunto arriva quella leona una leona che avrà una totale fase di roaming spaziale l'avevo visto prima con Click per quanto fosse legato a doppia catena con un Jin adesso invece ci ha affiancato da un Ezeral tra l'altro un Flaked che ha dimostrato su spell di movimento di saper giocare molto bene quindi hai uno spostamento arcano chiaramente non è lo scatto di un Lucian ma è comunque un'abilità che ti può aiutare che poi tra l'altro contro Rakan è anche meglio perché lo scatto di Lucian lo puoi intercettare mentre lo spostamento arcano è un blink è un'abilità che ti teletrasporta immediatamente nella destinazione non è quel frame esatto per quanto riguarda leona è vero che Ezeral ne va ad abilitare il roaming perché è un campione che già dal livello 3 in poi già dal livello 2 in poi in realtà può andare a trovare il lockdown a target ed Ezeral è un campione molto indipendente ma è anche vero che leona fa da counter di corsia per Rakan quindi ci sono due possibilità molto dipenderà dalla pressione in giungla e dalla pressione che le lane vogliono dare ai propri jungler che è un concetto diverso ovvero che cosa il jungler dà alle lane che cosa le lane hanno bisogno di dare alla giungla infatti uno dei cambiamenti principali sul ritmo di gioco dei match dal game 1 al game 2 al game 3 nel andare a draftare o Miss Fortune o Jin e che Jin non aveva mai la priorità di cui avevi bisogno e questo andava a strozzare molto si boi della giungla e lo andava a limitare nel come si boi voleva impostare lo scambio diretto con Alex dall'altro lato adesso che ti ritrovi di nuovo su Miss Fortune contro Ezeral che non è proprio noto per essere il campione che ti slamma priorità sulla corsia sui minion soprattutto già dal livello 1 è una lane dove puoi giocarti da questo punto di vista puoi cercare di andare a premere puoi cercare di forzare una leona in corsia per scongiurare eventuali dive insomma i match con questa duo lane si sono aperti una rosa di possibilità molto più grande non è detto che si vada a concretizzare tutte ma non ci resta che andarla a vedere sulla landa Iori è il momento come sempre panoramica in quel della della landa delle leggende non più panoramica c'è una bellissima fotografia frame frame della panoramica pop della torre su vi siete mai chiesti che cosa vede una torre ecco adesso lo sapete la domanda è vi siete chiesti cosa potrebbe dentro una torre ma soprattutto vi siete mai chiesti come sta una torre nessuno si è mai chiesto nessuno fa sempre queste domande mi prende una torre ora che ci penso mamma mia mid lane abbiamo Sion contro Victor e Sion tendenzialmente lo andiamo a concepire intanto libero di incantesimi per lui come quel campione che non vuole cedere mai priorità e che vuole permaclearle le ondate senza dare kill potential al mid lane all'avversario come abbiamo detto prima è un'arma anti snowball non puoi pulire l'ondata e punire il Sion sotto torre perché Sion ha troppo wave clear come tank questo si inserisce però contro Victor non so quanto lasciare Victor libero di scalare possa essere considerata un'arma a taglio singolo sul lungo andare in bot side intanto però Flak lo vediamo da subito iperpressori sull'ondata tiene la passiva staccata e continua a giocare di basic vuole contestare la priorità ma rare flash click non glielo lasciano fare assolutamente parte già quindi subito differenza in corsia inferiore vedremo come verrà giocata sono davvero molto intusiasmato perché intusiasmato perché adesso vediamo un quarto game dobbiamo un attimo rivedere quello che abbiamo detto ok vai ti lascio spazio è knight mid effettivamente è rene top e quindi allora make sense nel senso che per quanto knight o meglio graves abbia perso in quella corsa centrale giochi contro un tank tu itimizzerai probabilmente con arco scud cose varie insomma i suoi danni mai ti dovrebbero impensierire scatti che aggiungono difesa fisica a un campione che ti fa danno fisico dovresti poter uscire indenne da quella corsa centrale con tanto farm inoltre non vai a mettere quel Sion contro Vick e però è tremendo da seguire perché non ce li spostano sul tabellone quindi adesso dovrò praticamente tenere gli occhi incrociati nel cercare di capire come stanno proseguendo ricordiamo ragazzi quello che stiamo trasmettendo è un feed quindi non abbiamo diretto controllo sulla partita su quello che sta succedendo esatto primo o poi qualcuno per favore mando un messaggio alla regia in Spagna nel frattempo Siboi muore da Alex no no non muore per fortuna non muore forse per vocal in vocal probabilmente Eren avrà spottato spostamento di stem boss Alex oh ok vedo un flash bullare a destra a sinistra e questo è un'ecatombe per i maschi è una addirittura proximity stem boss si cerca l'invade o meglio l'invade il dive sotto torre wow primo sangue pulito pulito ancora una volta prima sangue facile facile e sulla topside Jace ha otto minion Jace si è spostato per coprirsi i boy quando non aveva la minima priorità per farlo ha perso farm ha perso esperienza ha perso la vita adesso deve teletrasportarsi per farmare la grossa ondata che era stata staccata ma questo è un pessimo inizio perché guarda qui Alex adesso continua ad allontanare gli avversari vuole giocare attorno al largo cancro sta aspettando la punizione che torni disponibile e mancano un paio di secondi eccolo qua la trova eccola lì si non serviva neanche a spendere troppo tempo oh mio dio si boia pochissimi hp però Eren sta arrivando flash ha la mano disponibile potrebbe cercare un flash laser no tra progrado e continuano continuano ad andare giù le summoner la pressione di mappa abbiamo dei mad che sono veramente travolti da un fervore divino nel giocare questo early game lunga serie di brutte notizie già e tra l'altro ora andiamo ad analizzare anche il ptd non è detto le bosse Eren scambio di colpi le bosse molto aggressive bravo 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 molto bravo ora dicevo andiamo su click no non lo dici non puoi dirlo non puoi dirlo Eddie mi dispiace ogni volta che provi a iniziare quella frase qualcuno ingaggia no un replay rivediamo su stan boss a livello 2 con Eren a livello 4 questo già ti fa capire quanto pesante sia stato il sacrificio di stan nel ruotare a bassa priorità Alex si è tancato la torre in tranquillità la martellata non l'ha fatto ufficiale al range Niter che batta a dare su sebex perché comunque combattermi lì fa piacere a graves graves ricordiamo se va mi lì fa più danno ecco tornando al discorso di prima campioni che mi lì fanno più danno Eren su stan altra aggressione in ogni caso come dicevo velocemente ora che c'è spazio si voi Lilia è da un bel botto da un bel termine tecnico un bel botto di tempo che non la vediamo effettivamente questa Lilia però sappiamo cosa vuol dire una Lilia che va behind sappiamo cosa vuol dire avere una Lilia che non riesce a trovare gli spazi necessari per avere risorse intanto qui aggressione si combatte il contropiede il contropiede da parte dei match aggressione ma sta arrivando anche Alex questa sarà una precisione si può e crolla si può e crolla ci stanno provando ma non è abbastanza troppo poco troppo tardi perché hai un Sion hai un Sion in mid dai Sion ti porta grossi controlli a un certo punto diventerà importante in side lane ma a un certo punto non è adesso quel punto e anche i danni che può mettere comunque sono circostanziali se vai a vedere anche le possibilità di dodge da parte di alcuni di questi campioni ora dicevo una Lilia che va behind non basta ci rinunce te l'ho detto non puoi fisicamente non puoi oh mio dio flag and splash degno di un vero teddy player oh mio dio ottimo 6 step la guarigione stila lime si rischia di morire adesso quel corso inferiore si rischia di morire flag ed è libero questo è una triple kill questo è una triple kill io me ne va io me ne va mio dio 3-0 dunque si allora sono successe delle cose in corsia inferiore si mi chiedo davvero che cosa stia succedendo nelle voice com dei match in questa partita perché gli headset sono spenti non stanno parlando in quale universo gli stivali di Lilia possono tradare la fulgore di Ezreal ok non ha le summoner ma flakt intanto da quando le abilità di Ezreal sono diventate a bersaglio invece che skillshot devo ammettere ha flashato durante l'animazione della Q ha flashato durante la Q zero counterplay veramente e poi quel sidestep flakt sta facendo quello che vuole in sta serie guarigione però non interessa si boi colpo dopo colpo ricordiamo che poi tra l'altro qua ormai in super saiyan form praticamente grazie alla bellissima esatto passiva staccata questo significa una tonnellata di velocità d'attacco e non puoi non puoi non puoi non puoi fare niente da qui in poi salvarsi è stregua di un miracolo vanno su niter vanno su niter è una buona kill sicuramente kill che viene raccolta da Jayce è una kill da Jayce al momento questa è la migliore kill che hanno preso i match è anche l'unica ma non importa è la migliore è difficile cercare di mantenersi positivi sui prospetti riguardo la partita dopo quello che è appena successo in corsia inferiore è così tanto tra zero con lacrima che già inizia a staccare la fulgora nell'inventare perdonami se ti parlo sopra ma è qualcosa di a livello tecnico c'è veramente poco autoesplicativo totalmente autoesplicativo click sottovisione abbiamo anche Tore deve stare anche attento click lo chiudono si lo chiudono Rari ci deve stare anche attento guardalo guarda Flacto è 1v2 tranquillissimo Tore fa il lume intanto dice vabbè ma sai cosa tanto c'è Ezreal che sta quello che vuole vision score mamma mia signori questi questi medelands sono veramente scatenati ma soprattutto la duo bot la duo bot e la top abbiamo avuto forse il livello più volatile in assoluto dove c'è stato un roller cluster di emozioni e anche di di pressioni di chi prevaleva sopra chi è stato davvero spettacolare è uno scontro anche di ideologie tra Alex e C-Boy non solo gli porta via il suo viego ma lo itemizza Bruiser quindi non è il viego di C-Boy basato sulla velocità d'attacco click ha paura ad avvicinarsi e d'altronde capisco click ok niente un colpo di avvertimento dalla distanza avremmo potuto ingaggiarti vanno su Stan oh però sta in bosse aggressione suprema da parte di Niter si lascia tutto in mano ad Alex che raccoglie facilmente l'uccisione e sulla corsia superiore nel frattempo abbiamo Eren che va di placature messaggero è stato conquistato esatto messaggero è stato conquistato in precedenza ed è il motivo per cui l'ingaggio è arrivato a metà della corsia tra le due torri proprio perché sta in bosse all'urlo del povero messaggero conquistato si era già spostato in maniera positiva in maniera difensiva non è bastato nel frattempo duo lane che viene aggredita però da C-Boy trova la suprema ma arriva alla profondità con il flash difensivo di Tore ormai c'è poco da ingaggiare C-Boy C-Boy ancora una volta arriva a toccate fuga ammalamento toccate fuga il knock up su Tore se un altro Raresh si riescono sopra giungerà per prendersi l'uccisione più una placatura che viene conquistata che viene raccolta da solo Raresh tra l'altro sul limitare proprio nel frattempo topside lo vediamo l'after mat di quanto è appena successo una volta che il polverone si assesta vediamo che il messaggero è arrivato a tirare la testata alla torre interna tanti danni su una corsia e ok mamma mia cosa ci faceva lì Raresh qua è legale si si non allora non giustificate in nessun modo no te l'ho detto qui è proprio devono riuscire a calmarsi i match co hanno una composizione che può giocarla questa partita ma devono smetterla di tiltare stanno veramente dando tanto ai loro avversari perché sono relazioni abide esatto non è che dici ho preso una kill l'ho forzata l'ho cesata qua si parla di mispositioning si parla di un'errata valutazione delle effettive risorse nel team fight e anche sicuramente un po' di sfortuna ma che di certo non non dà credito a queste azioni quasi scelerate addirittura anche perché ora lo dico finalmente ora lo posso dire una Lila che parte in svantaggio non ha un team su cui fare un po' di assistenza di follow up e trovarsi contro dei nemici fiddati è una Lila che non può sfruttare la propria passiva giocare con velocità cercare gli addormentamenti che esatto dovrà dire vorrà dire soltanto affidarsi al semi turbinante e e non basta non va bene non è una cosa non è una certa tu devi entrare dentro giocare con la tua passiva con la tua velocità trovare la Q su più persone e poi addormentarli questo è un vero gameplay Lila e non puoi farlo se parte così svantaggio di nuovo bot aggressione ancora una volta guardalo che spostamento per evitare il bullet time c'è il tp però attenzione che tp arriva Cybex il trarino è libero disponibile Flakete però ha smizzato Raresch lo ha massacrato arriva la guarigione colto in fragrante Flakete attenzione però altri danni gioca bene anche contro Cybex tu sommato guarda quanti danni riesce a mettere a segno grazie anche l'eglesitore ora ve ne hanno cappato ma guarda Cybex su tre no non ci credo Cybex perdona mia Flakete su tre Flakete anche il flash Flakete anche il flash non è Teddy ma comunque è un E0 4-0 nel frattempo topside è successo di tutto cioè noi stiamo commentando quanto è successo botte e non è morto nessuno oh oh l'hai detto vabbè dai vado via vado via io non vai via tu vado via io vado via io anche tu Karen per favore colpa mia colpa mia mi scuso non è morto nessuno flash non un grande tp però ci prova Jace arriva Eren una marea di danno forse con Cyboi Flakete fa veramente paura Flakete sta facendo delle cose con questo Ezreal che non sta nell'interra i match carano 5 praticamente in botte letteralmente sono passate 5 persone in botte e tutte 5 sono rimaste in fin di vita se ne sono andate si tra l'altro c'è il Victor che stiamo vedendo il Victor che è morto top a iniziazione quello che è successo top è che Victor è morto dopodiché è ritornato in vita Stan Boss è morto ucciso da Alex è tornato in vita Stan si è retrasportato Victor si è retrasportato Stan non è fatibile quello che abbiamo visto succedere both sides è in realtà un effetto a dare di farfalla di quanto era successo top e purtroppo non abbiamo visto cos'è successo top c'è stato uno scambio con Stan in profondità che riesce a uccidere Eren ma subito dopo viene falciato da Alex e la risposta è stata una disparità in tempistiche di respawn e teletrasporti che ha portato Eren a intervenire per primo perché essendo il primo a morire è il primo a tornare in vita è una situazione tra l'altro scusami sento di dovermi scusare pubblicamente però con i match cioè sono persone che stimo sono persone le quali voglio tantissimo bene e che spero veramente che riescano a crescere e fare di tutto ne ho uccisi tre prima e quindi e mi è bastato dire non è morto nessuno che si sono sono esplossi proprio i campioni quindi mi scuso mi scuso pubblicamente non meritavano di dover affrontare anche me oltre che questi Mad Lions 10-3 27.000 gol da 22.000 si parla di 5.000 gol di vantaggio al quindicesimo minuto ok trovano di ottimi danni Blacked vorrebbe di vedere in vita ma Simex non glielo permetterà finalmente almeno una volta è caduto ma cade anche la di Kerry dei Machko e guarda che danni ancora una volta Alex il look up finale verrà bloccato anche lui questa è una bellissima ripartenza 2 per 1 bene così bene così ma soprattutto lo shutdown tenuto fermo qualcuno è riuscito a tenere fermo quell'Ezzeral oh finalmente e questo è quella funzione da si boy il Gromp ha perso la pazienza anche lui è tipo dude veramente calmati Stan cercava di contestare la torre bot crolla comunque e anche di questo dobbiamo parlare vediamo i Mad che hanno già tre strutture torre esterna e interna in corsia superiore perché comunque c'è stato tanto tempo in profondità da parte di Victor prima e poi adesso quella esterna in corsia inferiore click bravo riesce a chiudere bene le distanze va ad intercettare immediatamente Flakt con lo scatto in avanti e Sebex ok non connettere col trenino importa poco comunque ormai il danno era fatto ormai eri lì lì per concludere facilmente la cosa che mi ha fatto sorridere qui è che Alex è uscito dalla possessione del corpo di Miss Fortune addormentato perché durante l'animazione della passiva di Viego Sebex aveva attivato una melodica quando Viego è diventato Miss Fortune è diventato una Miss Fortune addormentata e quindi non è riuscito a chiudere le distanze in fretta vogliono di nuovo Tore ancora una volta l'aggressione su Tore belli questi danni la nebbia di Alex sicuramente è fermetatore un facile flash e via di fuga deterrente principalmente vai lì a minacciare sai che Alex comunque è un Diego in forma esatto non puoi sapere quando uscire dalla nebbia paradossalmente ti blocco un attimo per sottolineare una cosa nel momento in cui hanno scambiato i laner mandano Graves in side lane quindi adesso che abbiamo effettivamente Graves mid ne parliamo dopo Alex adesso ingaggia attenzione però Alex ingaggia ma viene per me ingaggiato ottimo il danno ottimo il bullet timer si vai però cade cade il giallo per l'avversario così come va bene così scambiare uno per uno va bene quando sei in svantaggio significa che comunque riesci a combattere a testa alta che significa comunque che la tua draft ha la risorsa per funzionare comunque ti dicevo nel momento in cui Niter è diventato un mid laner ce l'hanno fatto vedere da top laner adesso che è tornato a fare il lavoro da top laner ce lo fanno vedere come mid lane vabbè vabbè tra l'altro che lavoro da top laner perché ha 170 minion al sedicesimo su Graves sta andando a prendere il messaggero mentre vediamo il replay dell'azione Alex particolarmente sconsiderato ora è approvato con la fiammata solare tra l'altro non ha neanche estordito Raresh quindi non ha interrotto il bullet time sì sono sempre che per miracolo quella tempesta di Eren è riuscito a trovare il trade però vediamo la cosa divertente che abbiamo visto Niter sullo schermo grande e piccolo volevano essere molto sicuri di farci vedere che stesse prendendo il messaggero se lo porta a casa è resetta verso la base guarda l'inventario di quel Graves stiamo a vedere mancano pochi minuti due minuti e quindici al barone con messaggero alla mano puoi creare veramente un grandissimo punto di pressione alla fine la landa è ancora una volta quella della nuvola replay quella grande prurità si lancia su tre c'è per un ottimo follow up rischiano grosso qui i match devono fuggire in qualche modo con la pezza Alex è ancora una volta lì pronto ha bellamente qui viene forzato niente da fare per Eren andare a raccogliere l'uccisione io non ho detto evocato il messaggero doppia torre doppia torre e poi rifilarti per un barone mentre il tanto si boi anche una volta si boi l'aggressione gli ultimi colpi ci provano torre inserisce su rare c'è l'ultimo colpo non basta basta per fortuna che pelo allontanano gli avversari probabilmente il messaggero troverà ok no c'è la punizione di si boi quindi comunque niente testata almeno quello e niente li stanno veramente maltrattando non peccato però adesso trova un minuto e quindici il barone potrebbe essere sicuramente un buon punto di ripartenza quello rimasco di essere riuscire a creare la magia e rivediamo come è andata perché Tore stanco che si ingaggiasse nei suoi confronti decide di ingaggiare lui per primo è proprio una questione di equilibri di potere quando vedi la finestra per ingaggiare sono arrivati tanti di quei danni burst da parte di Eren e da parte di Niter poi un continuo susseguirsi di reset da parte di Alex ma poi con un ottimo timing perché Raresh era vicino alla torre quindi era il momento migliore per separare il trio dal quadretto con Raresh inserito quindi sto fondamentale con Raresh che poi ha dovuto fare un giro largo perché Eren gli ha abilmente tagliato la strada e quindi non gli ha permesso di partire al team fight a conti fatti erano due support il suo victor top muore molto meno del suo victor mid questa non è una non è una buona nota per i match si abbiamo bisogno anche per il Mad Lions Madrid andrei a rivedere a questo punto gli inserimenti è arrivato il momento di swappare? eh beh quasi quasi se non muore top beh Niter voglio dire era nato da quegli idilli quindi perché non tornare su quella ha giocato in race top quindi perché no considerazioni considerazioni da fare tutto sommato in ogni caso rivediamo adesso ti blocco un attimo per sottolineare la rotazione con Thor e Alex di nuovo aggressivi questa è una polveriera che si sta scaldando vogliono l'ingaggio e trovano click click è morto click è morto dentro la tempesta è morto ed è morto anche James mi piace come Eren va di nolin ogni volta quel click era morto ma quella tempesta se non ce la metteva non era contento addormentamento su due bello quel velo bullet time che può fare veramente poco se un'altra fare un po' di danni lo spazio di manovra ormai per i match è veramente ristretto d'altronde lo vediamo quello è un tabellone che vede 7000 unità a favore dei med si portano verso il barone Nash or un plein air piena visione su di loro ha il santuario di Giorgio che spotta ogni rotazione ma non gli importa si boi non ha lo smite e quindi inserirsi per lui è impossibile anche volendo è un bait per l'ingaggio Eren cerca i danni li trova Sebex alla Suprema volendo aggressioni Alex poca vita ma c'è la punizione era considerata facile doppio look up però buoni danni torre morto tanti danni però su tutti i match questo è un grosso problema perché Flaket è full dita si è che ci hanno messo tre quarti d'ora a chiudere sul barone era lì sui 950 HP c'è stato un attimo di mancata comunicazione su chi dovesse tirare il basic se Ezra lo biego e quindi hanno perso un paio di secondi preziosi alla fine portano a casa il barone ma perdono torre mid perdono torre perdono torre e torre è un po' complicato da spiegare ma Knight è tornato addirittura di teletrasporto pur di bloccare l'impatto sulla mid lane Mad poco decisi però purtroppo è arrivata in un'inferiorità numerica l'azione e i match con non avevano le risorse per punirli Knight era adesso aggressivo su Seaboy l'abbiamo raccontata diverse volte la storia della cerbiata e del cacciatore e Knight sembra volerla replicare giò quanto pare si i Mad Lions Madrid sono on fire barone alla mano si resetta molto bene il flag full dps ormai con quella doppietta di oggetti davvero l'altro sarà l'ama del re rovina per flak probabilmente con quello scentro vampirico sembra voler andare verso quella direzione quella è crudeltà esatto e tutto sommato in realtà mi piace contro Cybex soprattutto mi piace esatto hai bisogno di lavorare sugli HP per quanto l'ama del re rovina abbia un danno diverso quando da gittata comunque sono proc percentuali che vai a trovare con il tuo colpo mistico considerando che sei andato in virtù della triade e non hai il danno percentuale dell'annientatore divino puoi tranquillamente sopperire con quella si è uno strizzare l'occhio all'esigenza di macinare HP esatto avendo però già un 4-1 della tua comunque una grande mangiata di risorse comunque affiancarei quella lama delle rovina a due oggetti dunque la mano è trasformata tra l'altro quindi è un buon DPS aggiuntivo qui Alex riesce a stordire Cybex nonostante tutto delicatezze tecniche si quasi va sul funerambolo però occhio a click però attenzione perché rischi grosso sei costruito un flash per questo scherzetto Core però ringaggia su 5 tanto è mortale sono leona infatti è quella lì ancora in vita Nighter davanti a tutti ci prova in base Nighter intanto in base Cybex gli ultimi colpi le boss l'ultimo attacco è ochio lo zombie Cybex lo zombie su Eren Nighter continua l'inseguimento Cybex vuole allontanare l'ondata ma è potenziata dalla mano del barone non ci riesce quanto è poetico il fatto che un colosso abbia ucciso Eren un colosso morto effettivamente un colosso morto ci siamo ci siamo la narrativa viene mantenuta mannaggia in ogni caso vediamo con Ravolt ormai il Triss con ancora minuti alla mano ma io ho tempo a disposizione con quella mano del barone per concludere almeno sull'inibitore parlo ovviamente per l'ultimo colpo verrà confermare l'inibitore io partirei a questo punto con la petizione per far giocare direttamente Eren insieme a Levi e insieme ad Ackerman vuol dire creiamo direttamente la squadra a questo punto e togliamoci il pensiero come la chiameresti però corpo di città causa per copyright probabilmente sarebbe il nome del team ma questa è un'altra questione ripetendo l'azione più un grosso rischio però eh lato med si esatto esatto perché hanno sottovalutato quanto click potesse fare un po' da cane da pastore nell'inserirsi con la toccata e fuga di guerra can certo è una cosa che hanno a conti fatti pagato poco anzi writer in profondità che trova quelle kill minacciano addirittura stai in boss trovano l'inibitore mid voglio dire l'azione è andata a favore dei med però Cybex stava lavorando stava lavorando con quel Sion arriva un drago per i med med adesso sono a soul point e vediamo che direzione vuole prendere la loro partita la gold lead ormai è immensa 49.200 contro 40.700 sì è una bella gold lead l'abbiamo detto ormai siamo quasi su quelle 10.000 unità d'oro che generalmente in termine tecnico andiamo poi a notificare come ormai morte clinica del paziente la morte clinica del paziente con le 10.000 unità di vantaggio per i match è anche difficile continuo a ripadirlo per la composizione che hanno per quante potenzialità come tu suggerivi avevano occhio a Siboy perché qui Siboy è morto e quindi tra l'altro si ingaggia con Leona si ingaggia con Leona Niter aveva scoperta con tanto di scudo alla mano lo scudo della prima sangue altri danni che vanno a frangere sull'inibitore mi hai fatto saltare un battito con quella su quell'azione di Siboy è purtroppo poco da fare Flakt adesso continua a premere prende i danni interessanti guarda lì dovrebbe essere il tank sta prendendo dei danni enormi e non solo ormai qua una delle cose che mi piace dire così tanto che qua si pusha manco se avesse il marone il marone c'è tra un minuto esatto Flakt però danneggiato non puoi guardare una parte che dall'altra parte anche a 10 metri di distanza c'è un'altra azione completa Alex guadagna tempo signori questa è la fine i Mad Lions Madrid andranno avanti all'interno di questi Iberian Cup che dire è una serie che è stata comunque già scritta quando i Mad hanno iniziato a mettere giù le meccaniche grosse Flakt totalmente su un altro pianeta Flakt ha giocato delle azioni prima con Lucian poi con Ezreal che non lasciavano spazio ai fraintendimenti da parte dei match con le idee c'erano ed erano anche delle idee buone ma è stato problematico quando poi queste idee si sono scontrate contro un cambio di paradigma da parte dei Mad quando i match dovevano semplicemente rispondere alla draft standard dei Mad quella costruita attorno all'early game dei D-Syn per poi andare a scalare sulla corsia inferiore hanno dimostrato di avere le risposte quando poi invece si cambia tutto la pressione va sull'early to meet game l'early to meet game dei Mad ha fatto paura non ho da dire purtroppo peccato perché i match con più e più volte anche nel secondo game ci avevano comunque dato dimostrazioni di potenzialità non voglio dire che il terzo game sia stato un po' regalato in fase di draft a livello di tante concessioni più che per la composizione stessa dei match perché erano 5 power pick veramente veramente presi dalla gioco per volta League of Legends copia e incolla della tier list chi è al primo posto letteralmente su altri titoli andremmo a dire semplicemente che hanno net deccato hanno net deccato la partita in profondità e quindi ahimè è andata come è andata bravi Mad nulla da dire cioè qui è stata proprio una serie dove non si può neanche recriminare troppo i match come proprio i Mad che hanno dimostrato di essere su un altro livello e questa è l'LVP che fa voce grossa la fa con i Movistar la fa con i Mad d'altronde stiamo parlando ok a livello geografico di una regione che fa parte della penisola iberica ma stiamo parlando di una regione che fa parte delle leghe maggiori europee a differenza di Italia e Portogallo che invece stanno ancora cercando di scavarsi il loro status maggiore nel tempo quindi esatto ci sta ci sta che sia un livello diverso ma ci sta anche affrontare una serie del genere ci sta a imparare ci sta a capire anche quanto alta sia l'asticella che devi raggiungere chiaramente e l'abbiamo detto comunque è un team che si sta piano piano ricostruendo con alcuni innesti e inserimenti poi li vedremo poi durante l'arco che ci separerà dal nuovo spirito dell'Opity Nationals questo però conclude questo quarto dell'Iberian Cup appuntamente a seguire l'avremo poi il 5 addirittura quindi manca veramente poco due giorni neanche e avremo domani domani anche domani siamo sì perdonami domani siamo domani è il 5 quindi si va avanti con tutti i quarti di finale esattamente nelle fasi semifinali del 9 e poi la finale con il 14 gli appuntamenti come sempre però in rimando ai social di PG Esports questo è tutto per stasera da Eddie Noise e Karen vi auguriamo una buona serata grazie a tutti grazie a tutti